Potente appara ragazzi, qua va MaxLogic, oh my god, oggi sono Gastone e sono qui a presentarvi in un modo molto swag un nuovo pack opening, però pack opening veramente speciale perchè infatti ci sono i pacchetti edizione limitata nel senso che ci sono un top di pacchetti che non sono pacchetti che escono in un determinato o meglio per un determinato periodo bensì sono dei pacchetti che escono in un determinato orario e ce ne sono in una determinata quantità quindi primo pack opening veramente speciale di tutto questo FIFA io direi, ho sputato tipo un bambino io direi di iniziare subito il video dicendo di o meglio ricordandovi di passare da onefifa.com se siete interessati a comprare anche di FIFA e mi raccomando utilizzate come discount code il codice Axel con 2 per avere un ulteriore sconto mi raccomando prendetevi che anche adesso nella natalizia i crediti ci saranno ovviamente comunque primo pacchetto non abbiamo trovato niente spero di trovare sicuramente qualcuno anche perchè è da un maciello che non trovo un informe l'unica informe che ho trovato di questo gioco valeva 10.000 crediti quindi cosa non molto bella comunque anche se non troverò qualcuno questo video lo caricherò perchè a fine video vi dovrò dare una notizia veramente importante anzi ve la doce adesso però la spiegherò meglio a fine video intanto dobbiamo mangarà praticamente ho deciso di iniziare il contest dell'iscritto più attivo quindi l'iscritto più attivo vincerà un tot di crediti soprattutto ho deciso di iniziare adesso anche perchè siamo in ambito natalizio quindi io vi faccio una sorta di regalo se possiamo così dire comunque detto questo non abbiamo trovato ancora nessuno quindi stiamo andando veramente bene ma noi non molliamo andiamo avanti vediamo 91.000 pacchetti rimasti pochi mi dicono dai Iguain vediamo io guardo oh mio dio Correa che schifo io ah ah truce baldazzi Leonillo 77 samba samba e andiamo avanti con Hazard 150.000 crediti rimasti 135 adesso dai io ti prego non guardo ragazzi non guardo alzerò il mio sguardo al 3 1 2 3 Taddei Taddei troviamo Taddei ma scherziamo no vabbè Taddei va bene Taddei sono contento dai ora guardo ora guardo lo guardo ancora mancarà all'incirca 9 pacchetti rimasti andiamo avanti Griezmann no Traoré ragazzi ma stiamo scherziamo Iguain chiudo gli occhi dai chiudo gli occhi al 3 li riapro contiamo fino a 3 1 lasciando un bel impiace ecco cosa dovete fare dovete lasciando un bel impiace riapriamo gli occhi oh mio dio io mi sto sentendo fortunato ragazzi non chiedetemi il perché ma oggi mi sento stranamente fortunato quindi io ci credo troveremo qualcosa ancora quindi Howard Howard ce lo farà trovare guardiamo insieme ed ecco qua Vidic e che oh mio dio Kakà con una stemma assai strano io pensavo eia questa 2000 credit pensavo giocassi nel San Paolo vabbè lo teniamo ragazzi the nose pack lo aprirò col naso dovete lasciare un bel impiace adesso se lasciate un bel impiace adesso troveremo sicuramente qualcuno io intanto se posso chiudo gli occhi gli riapro al 3 1 2 3 Miranda Heather Campbell hey 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 gazzi eh almeno tu la la porte la porte la porte la porte che poi sarebbe la porta ma trunk oh mio dio ragazzi sono sicuro di trovare qualcosa in questo lo sento sto sentendo un buon giocatore l'odore che un buon giocatore vediamo art dai uniforma non di più lo sento code busci ma stiamo scherziamo al 3 mi giro 1 2 2 e mezzo 3 Henry la lana ma dai ma dai sto per fare una cosa folle ragazzi questo pacchetto lo aprirò io mi girerò e lo andrò a scartare qualunque cosa io trovo dentro trovi usiamo i congiuntini ma non lo guardo nemmeno quindi non so neanche cosa troverò dentro mi giro se non mi sbaglio così si scarta tutto però io mi sacco scherzato la volta sto sbagliato ho aspettato un secondo ah no io ho inviato tutti gli oggetti nel cloud no ho sbagliato aspettate come buttare 200.000 credetti l'abbiamo fatto andiamo ad aprire l'ultimo pacchetto col naso e questo non andrò sia a scartare tecnicamente parlando non riesco a scartarmi cosa ho fatto magari ho scartato un giocatore straforte dovrei aver scartato tutto 9.000 crediti rimasti andiamo ad aprire l'ultimo l'ultimissimo pacchetto e adesso ci verrà messi record breaker non è vero neanche un giocatore non raro ragazzi dovete scrivermi nei commenti quale youtube se qualcuno è più sfortunato di me ritengo di essere il più sfortunato di fifa tra gli youtuber quindi detto questo ci sentiamo tra pochissimo perché ho un'importante notizia da darvi e ragazzi eccomi qua a presentarvi la seconda parte di questo video che è la presentazione del nuovo contest come potete ben vedere da questa fantastica immagine fatica fatta dal magicissimo Ergasmic HD che saluto e comunque ragazzi banno le ciance di cosa si tratta questo contest in particolar modo cosa si vince in questo contest praticamente questo è un contest che ho deciso di iniziare in questo periodo perché appunto come ho già detto periodo natalizio e consiste nel commentare mettere in piace condividere ai giudici preferiti più video possibili perché infatti il vincitore sarà l'iscritto più attivo del mese e cosa bisogna fare per essere l'iscritto più attivo beh ragazzi è intuitivo bisognerà innanzitutto ovviamente vedere tutti o meglio praticamente tutti i video che faccio mettere mi piace a molti di questi video se non a tutti aggiungerli ai preferiti condividerli dappertutto e fare qualsiasi altra cosa possibile immaginare infatti come dice la parola l'iscritto più attivo del mese è appunto l'iscritto che fa più cose che aiuta in maggior modo il canale quindi in poche parole cosa succederà in questo mese da oggi 1 dicembre la sezione di youtube relativa appunto all'iscritto più attivo si rinnoverà e io cosa andrò a fare il 22 dicembre 22-23 adesso dovremo andare a vedere andrò a vedere quale sarà l'iscritto più attivo del mese e cosa riceverà l'iscritto più attivo in questo caso 300.000 crediti sia su play che su xbox o meglio dipende appunto dalla console in cui questo gioca perché infatti se ci trova su play io gli darò 300.000 crediti su play se su xbox gli darò su xbox quindi ragazzi cosa molto semplice dunque detto questo non mi sembra di avere altre cose da dire mi raccomando partecipate con questo contest mettetevi un piaccio a tanti video guardateli tutti e quindi detto questo io vi saluto e vi dico potente a poi e nel prossimo video ciao a tutti